Eccoci qui, buonasera a tutti, sono Cecilia Lavopa di Contorni di Noir, anche questa sera sono felicissima di ospitare un grande autore Francesco Abate, buonasera Francesco. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera a voi. Come mi si sente? Benissimo, benissimo. Vuoi dirci dove sei? Sì, mi trovo al Museo e Archivio Archeologico di Sinai, infatti alle mie spalle vedete anche una vetrina con alcuni reperti della civiltà fenicia che fanno capolino nel complotto dei Calafati, mica a caso siamo qua. Infatti mi fa molto piacere che con noi ci sia anche Linda Chester, ciao Linda, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, tu hai detto appunto il complotto dei Calafati ed ecco qui che facciamo vedere questa bellissima copertina di Einaudi, libro appena uscito, che è il seguito di quest'altro libro, vediamo se riesco in contemporanea. Sì, bravamente. Hai visto? Sì, bravamente. Dei delitti della Salina, questa sera parliamo appunto del complotto dei Calafati e di questo personaggio, Clara Simon, Simon giusto? che tu hai creato e prima di dirci qualcosa ovviamente della trama, in contemporanea vorrei sapere se è nato prima il personaggio, l'epoca o la storia gialla? Eh, bella, bella, questa è una domanda un po' da carogna, eh? Iniziamo bene. No, sì, perché non ci ho mai riflettuto, in realtà probabilmente le cose sono andate di pari passo. Di sicuro forse in un parto gemellare di un secondo l'anticipata l'epoca, Clara Simon, è a seguire l'epoca, perché in realtà noi siamo nel 1905, io pensavo di far iniziare l'avventura di Clara Simon nel 1889. E soltanto dopo una lunga chiacchierata con la mia editora Rosella Postorino, con Francesco Colombo e Paolo Repetti, ci rendiamo comune che era decisamente meglio spostarla, seppur di poco, ma spostarla, perché l'intenzione era quella proprio di raccontare l'inizio di un secolo. E allora se questa era la mia intenzione, dissero gli editor, beh, allora iniziamo col secolo iniziato, non agli albori o alla fine del secolo precedente. Quindi Clara c'era già, l'avrei voluta datare dieci anni prima, ma poi invece in piena bell'epoca abbiamo fissato la maggior età, perché Clara nel 1905 ha 21 anni, tra l'altro da poco è il suo compleanno, perché è nata il 13 maggio 1800 e qualche, e quindi eccola qua, è arrivata a lei. Senti, raccontaci un po' appunto la trama di questo nuovo romanzo che mi dicevi fuori onda, in realtà ti chiedevo io, che è il primo, diciamo la prima serie che tu crei, visto che hai pubblicato tantissimi libri, diciamolo, tra cui appunto voglio dire anche quello che mi ha cambiato la vita, mi fido di te, quello che hai scritto con Massimo Carlotto, ma al di là di quello hai scritto tantissimi libri, ma in realtà questo, diciamo quello che è il primo che ha creato un personaggio, chiamiamolo seriale, anche se è solo, voglio dire, la seconda storia. Certo, io credo che mi fido di te, credo che abbia cambiato fondamentalmente il rapporto con il tuo verduraio, con il tuo macellaio, ma a parte ciò dicevi bene, nel senso che è un personaggio che non può essere proprio definito seriale, che è Rodolfo Saporito, Rodolfo Saporito è un giornalista come Clara Simone, solo che è un giornalista di questo secolo, è stato protagonista di due libri e poi appunto, mi fido di te e mi chiedo scusa, compare a un ruolo, comunque non è un comprimario, però è una comparsa importante. Devo dirti che diversi lettori, quelli che si erano affezionati a quel personaggio, mi dissero, avendo completamente abbandonato quel personaggio, perché non lo fai tornare, perché non lo fai tornare, però in realtà, guarda, io non avevo una storia per lui, avevo la storia per Clara Simone, perché volevo raccontare la storia di una giornalista pioniera all'inizio del Novecento, ma nonostante ciò, siccome sono un po' fetente, ho infilato un Rodolfo Saporito, che è il Watson di Clara Simone, un tenente, prima puntata nei diritti di Ossalina, dei Carabinieri, seconda puntata, complotto del Calafati, invece un capitano. E allora i lettori hanno chiesto, ma questo Rodolfo Saporito è parente del Rodolfo Saporito moderno? E ho detto, certo, è il bisnonno o trisnonno? Adesso, perdonate, non ho tutta la linea, è il bisnonno, è il bisnonno, è il bisnonno, però il problema è chiedersi se Clara Simone è la bisnonna del Rodolfo Saporito attuale. E quello, per ora, non sembrerà. Non lo diciamo. Diciamo che c'è del vero. Lei forse, però, insomma, la vita è complicata. E Clara, diciamo che è un'investigatrice per caso, di sicuro nei delitti della Salina. Non ha gli strumenti dell'investigatore. Voi siete, appunto, contorni di noir, mangiate noir a pranzo, colazione e cena, quindi saprete bene, avete incontrato tanti investigatori che erano già formati nelle loro capacità investigative. E voi sapete che molti autori, proviamo a pensare al grande maestro Camilleri, che a un certo punto sente l'esigenza di fare un passo indietro e dire, ma com'era il giovane Camilleri? Invece io, per pigrizia, ma mica per altro, per pigrizia ho detto, invece iniziamo proprio dall'inizio. Quando lei è maggiorenne, non ha gli strumenti investigativi, è una neofita, combina anche dei guai, non sa gestire pienamente una scena del crimine, ma questo accadeva nei diritti della Salina. È vero che è passato soltanto un mese nel complotto dei Calafati, però alcuni elementi molto traumatizzanti, come capitano delle nostre vite, l'hanno fatta crescere, quindi ha una dimensione in più, una coscienza in più. Che cosa accade? Esattamente siamo a ottobre del 1905, a settembre c'è stato il grave e grande terremoto delle Calabrie, uno dei tanti purtroppo, quello del 1905. La Sardegna, questo è un dato storico, si mobilita in maniera eccezionale a favore dei fratelli calabresi e dà vita a tutta una serie di attività benefiche, gran balli, opere teatrali, sfide sportive, ed è al termine di uno di questi gran galari in cui si rilisce tutta la nobiltà cagliaritana, che con il gran malloppo a rientro in città, dove si trova una villa fuori città, due baroni e loro autista vengono bloccati da dei banditi che sembrerebbe li rapinino, ma è una rapina che finisce assai male perché vengono ammazzati tutti e tre. Clara Simoni entra in ballo perché, peraltro, le indagini hanno subito una piega di tipo politico, sicuramente sono stati o gli anarchici o i socialisti che hanno voluto punire dei baroni particolarmente duri con i loro lavoratori. Sarà così? Non sarà così? E Clara entra in campo con due code di cavallo, in realtà perché Clara ha sempre due code, non una. Posso dire che è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo e lascio a Linda parlarne, insomma. Poi io interverrò ogni tanto e invito tutti quelli che si sono collegati, che saluto, di intervenire con le loro domande. Grazie. Sì, Francesco. Allora, guarda, io parto subito con Clara, perché Clara Simoni è un personaggio vivamente stupendo, perché, come hai detto tu, è una giovane donna, però di inizio secolo, ma è davvero modernissima, ha un pensiero indipendente, è straordinariamente contemporanea e combatte, come dici tu, per i suoi diritti e non solo. Quindi è un personaggio in cui anche sono identificata io come donna moderna, pur essendo una donna di quei tempi. Allora, la prima cosa che volevo chiederti è come nasce un personaggio così bello, questo bellissimo personaggio e soprattutto se praticamente ti sei ispirato a qualche donna realmente esistita o che tu hai conosciuto. Guarda, io volevo da tempo abbandonare l'autofiction della trilogia di Chiedo Scusa, Tottenetra Piantati, Mia Madre a Tre Catastrofi e ributtarmi nella fiction pura. Quindi non parlare più di me, ma parlare di un personaggio che fosse costruito attraverso dei personaggi reali. Perché è vero che Clara Simon non esiste, è frutto dell'invenzione, ma è vero che ha tutta una serie di caratteri di donne del presente e di donne del passato. Iniziando con le donne del presente, devo dire che io il carattere di Clara Simon l'ho forgiato fondamentalmente su due donne che lavorano a titolo diverso a questa narrazione. La mia editor, Rosella Postorino, è Grazia Pili, giornalista, che è anche la gran sfiga di essere mia moglie, che come scritto nelle note di copertina partecipa attivamente alla realizzazione di questo libro. E sono due donne, insomma due professioniste in campi diversi, una più giornalista, l'altra è una grande scrittrice, è una grandissima editor, ma è anche un'amica. E quindi dare il carattere di due persone con cui tu condividi tanto della tua vita, tua moglie da una parte, ma con cui ti confronti anche professionalmente da un punto di vista giornalistico. E la tua editor, questo è l'ottavo libro che facciamo insieme, quindi sono veramente tanti, intanto dava un carattere a questa donna. Perché credo che comunque sia Rosella che Grazia, che qualsiasi donna che si affaccia nel mondo del lavoro e delle professioni, ancora oggi una serie di difficoltà se le deve affrontare, deve avere sempre quella marcia in più. Ma se questo era la facilità del darle una voce, darle un'anima, d'altro canto c'erano delle altre donne, a me molto vicine, tenete conto che arrivo da una famiglia di donne con un carattere devastante. Poi una di queste donne è tua madre. Una di quelle donne, non so se le vostre madri sono così, che quando tornavi a casa con un buon voto non ti dava mezza soddisfazione, ma hai fatto il tuo dovere. Che usava come metodo montessoriano il battipanni per lasciarti i tatuaggi anteliteram sulle cosce. E perché a sua volta aveva una madre molto, molto, molto forte, mia nonna Giovanna, un'insegnante di latino e greco, la quale a sua volta aveva una mamma, Emma Mereo, una donna bellissima, alta, bionda, guarda che assomiglia molto, va detto, ed è chiaro che io non abbia preso nulla dalla mia bisnonna Emma, che aveva una sorella, Elvira. Guardate, erano donne come Clara Simone, borghesi, antolcate, colte, ma sensibili a quelli che erano le istanze e i problemi dei lavoratori. Nello specifico zia Elvira Mereo, che io non ho conosciuto, come non ho conosciuto nonna Emma, differenza invece di suo marito, nonno Rosolino, che mi ha tenuto in braccio, ha fatto tanti regali e ha raccontato tante storie, fra cui la storia di Elvira, seppure ero piccolino, che viene tramandata in famiglia perché decide di aderire a Cagliari all'inizio del secolo al movimento anartico. E la paga, la paga amaramente perché voi pensate che ogni santa volta che in Sardegna arrivava un reale o un altro funzionario del regno, i carabinieri si presentavano a casa di Elvira, bussavano alla sua porta, le pregavano di prendere il cappellino, l'ombrellino, una borsa e la carceravano preventivamente. Ma questa storia, sapete, in famiglia mi ha sempre molto colpito di questa donna che è morta anartica, ha sposato un anartico, una donna che non ha mai fatto del male a nessuno, ma che per coerenza con i propri ideali finiva in galera, e finiva in una galera che all'inizio del Novecento non era certo una buona galera, non lo è mai stata in realtà, il carcere di Boncabino. L'altra donna che devo dire però è andata di pari passo con la realizzazione del libro, quindi non le ha dato i fondamenti ma ha iniziato a darle altri caratteri, è una donna che visse a Cagliari tra il 1889 e il 1903, giornalista, socialista, arrivò a Cagliari al seguito del marito Francesco Carrara, che era il miglior allievo del padre. Francesco Carrara arriva a Cagliari perché gli viene data la cattedra di medicina legale. Il suo maestro è il padre della moglie, il maestro si chiama Cesare Lombroso, la moglie si chiama Paola Lombroso, grandissima giornalista, donna a cui dobbiamo la creazione, l'ideazione del Corriere dei Piccoli, ma a me piace anche ricordare del grande progetto delle bibliotechine rurali. Tutto questo per dirti che a volte qualcuno dice però una ragazza del Novecento così emancipata, così combattiva, in realtà è sorella di tante altre donne. Io le voglio citare, posso citare Matilde Serau che nel 1905 viene defenestrata da uno dei giornali che ha fondato, il Martino di Napoli, ma voglio citare un premio Nobel per la letteratura, grazie a De Redda, che nel 1905 aveva scritto già diversi suoi titoli caposaldo della sua letteratura e che non ha mai avuto vita facile, nonostante fosse scrittrice, uno dice vabbè, ma scrittrice avrà avuto? No, non l'ha avuta assolutamente. Quindi in realtà Clara Simon è sorella delle donne che vi ho citato, ma si inserisce in un contesto in cui non erano poche queste donne. Io non voglio andare a scomodare Nelly Blay. Abbiamo anche i nostri esempi regionali e nazionali, molto importanti. In più, Clara Simon è anche permette cinese, perché c'è anche questo elemento molto particolare di lei, che subito colpisce, che ci collega poi a una Cagliari veramente insolita, che è l'altra grande protagonista dei tuoi romani, perché tu ci porti proprio in una Cagliari diversa, vivace, questa di inizio secolo, ma anche multiculturale. Allora, questo è un aspetto che mi è interessato tantissimo fin da subito e ho visto, leggendo nei ringraziamenti, che per costruire romanzi sei aiutato, hai studiato anche le letture, proprio hai letto le cronache dell'unione strada e dei tempi. Questo è un lavoro affascinantissimo. Io volevo proprio chiederti, da cagliaritano, ma anche da giornalista, com'è stato immaggerti in queste pagine dei tempi e quali elementi, insomma, hai trovato che hai trovato affascinanti, interessanti e quali, e hai trovato degli elementi che si collegano poi alla Cagliari di oggi, che hai rivisto proprio in Cagliari che tu hai vissuto personalmente. Guarda, intanto devo dirti che più che un lavoro è un divertimento, perché è vero, io sono giornalista, sono un giornalista dell'Unione Sarda, per anni, sino a che avevo 40 anni, ha fatto il DJ, per cui nell'immaginario pubblico uno che fa il DJ è uno che magari non si interessa di storie. Poi soprattutto si fa lo scrittore, però racconta la contemporaneità e poi soprattutto il mondo notturno che gli affine. Però devo dirti che in pochi, anzi nessuno sospettava che invece c'è in me un grande amore per la storia, che fu determinato proprio dal fatto che quando tu nasci in una famiglia in cui ci sono tanti libri e mi folgorò il fatto che mio nonno mi regalò un debello gallico per versione ragazzi, quella per le scuole medie, io da allora, mi sono, amo, amo profondamente la storia, perché quello che mi affascina è la storia degli uomini, cioè gli uomini e le donne che hanno calcato quel terreno che magari oggi percorriamo noi. E poi ovviamente è, come dire, una sedimentazione di informazioni. Quindi quelle informazioni sono state poi a un certo punto focalizzate sul romanzo, ma io in gran parte già le avevo. E questo, come tu hai detto, grazie soprattutto all'archivio dell'Unione Sarda, che viene fondato nel 1889. Ecco perché io volevo iniziare la narrazione. Il 13 ottobre 1889 è nel lavoro. Io adesso sono il responsabile delle pagine culturali e di spettacolo dell'Unione Sarda, ma per anni ho fatto il cronista di Nera, per molti, moltissimi anni, e per molti anni anche il contemporaneo il cronista di giudiziaria. E ci sono molti momenti morti del nostro lavoro. Ci sono anche adesso, ad esempio, l'Aerovision. L'Aerovision per me è stato un momento che abbiamo chiuso l'ultima puntata all'uno e un quarto di notte, che era, con tutto il rispetto, però un po' lontanuccio dai miei gusti musicali, mettiamola così. E quindi, segui ma non segui, e io mi farò leggere le coppie dell'Unione Sarda di quegli anni, e guardate, è un romanzo a puntate fantastico. A parte che l'Unione Sarda ospitava, nel taglione basso, i romanzi a puntate di grandi autori, e negli anni e nei mesi in cui si svolge l'indagine del complotto di Calafati, l'Unione pubblica un romanzo minore e inedito di Sarah Arthur Conan Doyle. Quindi questa era l'Unione Sarda, cioè un giornale che faceva anche delle scelte profonde, importanti. E la società che ne emerge è una società affascinante, perché l'immaginario della Sardegna è un immaginario bellissimo, fondato su dei romanzi insuperabili, che hanno raccontato la Sardegna ancestrale, la Sardegna arcaica, la Sardegna agropastorale, ma non quella delle città. Quindi la mia narrazione, che non vuole essere assolutamente alternativa o addirittura contraria, ma che completi quel tipo di narrazione, entra in città. E che città trovi? Trovi una città che è in vitro, per chi ha letto il libro come voi lo sa perfettamente, è una città che vive la belle epoca, una città europea, una capitale europea piccola, ma tutta succo. In Sardegna si dice totusuccio. Perché basti pensare che questa città che all'epoca aveva, nel 1905, anno del complotto dei Calafati, 52.000 abitanti, ma aveva 4 teatri, 4 caffè Shantan, un cinema, le rotonde sul mare dove si ballava, l'anfiteatro romano dove si andava ad ascoltare la ridica, era la radice di una città che oggi è altamente godereccia, una città che ama profondamente le arti, il buon vivere e il bel vivere, tant'è che siamo fra quelle città che ancora oggi hanno un'altissima qualità di vita. Ma se ce l'abbiamo è perché c'è una radice culturale in quegli anni. Quindi c'è addirittura una cittadina della città metropolitana di Cagliari che viene chiamata la piccola Parigi. È un po' un'esagerazione, però giusto per farvi capire, dai. Ma senti, io mi volevo intromettere chiedendoti una cosa, visto che a Clara il direttore Pisano nell'accogliere in redazione le aveva detto, non le dico che questo è un mestiere da uomini Clara, le dico però che questo mestiere è una carogna e carogna a volte la renderà, è proprio sicura di diventare cronista, perché andrà là dove c'è disperazione e non andrà per portare conforto. Invece in un'intervista che ti hanno fatto in merito al romanzo precedente, in cui si parlava comunque del giornalismo, prima tu rispondi a una domanda, prima c'era la notizia ma non c'era un seguito, oggi la notizia viene esplosa ed esplorata in tutti i suoi aspetti per una settimana. Allora mi chiedo, secondo te come è cambiato fare il giornalismo rispetto appunto nell'epoca di cui parli con Clara, rispetto ad oggi dove forse è vero che se ne parla ma per quanto mi riguarda mi sembra quasi una spettacolarizzazione della notizia, cioè un'eccessiva informazione, quindi com'era all'epoca di Clara parlare di un certo tipo di giornalismo? Ma devo dirti che intanto per quella frase che hai citato mi hanno scritto diverse colleghe, Sard e Non, ringraziandomi, perché per il cronista, il cronista soprattutto che poi si occupa la cronaca nera, quello a dire è la tavola della legge, quando tu stai andando a fare della cronaca nera soprattutto non stai andando a portare conforto e vai in luoghi dove appunto l'ultima delle cose è la serenità con cui tu, rispetto alla quale tu ti vai incontro e anche tu ti poni, quindi diciamo che il mestiere del cronista è sempre un po' un mestiere caronia, è un mestiere difficile, infatti devo dirvi che a un certo punto della mia vita gli ho chiesto al giornale di non occuparmene più perché non mi era più possibile ad affrontarmi al dolore e alla morte come avevo fatto sino a quel momento. Leggendo i giornali da allora è chiaro che manca quella morbosità che si è andata a sviluppare, però non molto dopo perché poi i grandi casi, gli omicidi con tradimento, le baronesse o contesse con particolari voglie erotiche che venivano sputtanate, perché questo è il termine, purtroppo, purtroppo devo dire arriveranno a breve. Quello che non c'era in quegli anni era seguire in maniera morbosa la notizia, ma c'era anche una sensibilità diversa, pure peggiore. Guardate, una mia collega, una brava cronista di giudiziaria, si chiama Maria Francesca Chiappe, ha raccolto in un libro come il nostro giornale di Unione Sarda ha raccontato alle donne e ha spiegato, ha fatto vedere perfettamente come c'è un'evoluzione di assoluto non rispetto, ma in generale per qualsiasi vittima, tant'è che nel 1906 viene investita una ragazza 15enne in un paese che oggi è città metropolitana di Cagliari. Il giornale riporta l'articolo non per raccontare la tragedia e dire a questa povera ragazzina di 16 anni è entrata a casa una carrozza là, investita, ammazzata, una tragedia per questa famiglia, un dramma per... No, l'articolo è un articolo di protesta perché il vicinato chiede per favore spostateci il cadavere perché ci state bloccando la Sarda. Vi giuro, questo è l'articolo. Voi provate a immaginare oggi... Non ci credo. No, ve lo giuro, vi farò avere il libro perché questo era il tenore, ma del resto, voglio dire, c'era una insensibilità, una disattenzione che fa tutto l'arco della notizia. Grazia De Leda, l'abbiamo citata prima, vince il premio Nobel, beh, sull'Unione Sarda alcuni giorni dopo rispetto a quella data gli viene dedicato un colonnino. Ha vinto il premio Nobel? Che sto prendendo il Nobel? No, lo sapevano perfettamente ma probabilmente era perché a vincerlo era, Grazia De Leda, probabilmente perché a vincerlo era una donna, quando noi sappiamo perfettamente che in quell'anno ci si aspettava un altro premio Nobel. Oggi, senza dubbio, abbiamo delle regole più stringenti rispetto alle quali dobbiamo attenerci, ma purtroppo le regole ci sono, ma c'è anche chi non le rispetta assolutamente e purtroppo è un gioco vizioso tra chi scrive e chi legge, perché se allora, ad esempio, nei diritti della Salino muoiono dei bambini, cosiddetti piccioccus dei grovi, cioè i fattorini del mercato, io sul giornale trovavo morto bambino dei cesti e tu con la logica di oggi ti aspetti, vediamo domani cosa scrivono, magari ci danno il nome di questo bambino, magari ci dicono qualcosa di più, è un omicidio, è un incidente, è un suicidio, spariva, questo bambino spariva totalmente dal ruolo delle cronache perché era derubricato a bestiolina da somma e nulla di più. Oggi chiediamo il contrario, cioè oggi chiediamo un aggiornamento orario, neanche più giornaliero, per cui vediamo allora il caso, adesso non vorrei citare dei casi, però il caso talle e tali, noi pretendiamo, aggiornando la testata online che stiamo seguendo, se non un particolare influencer sui social, che tra un ora ci dica bene, chi è l'assassino? Lascia investigare qualche miseria, e però partono poi quelle che sono le informazioni parallele perché la testata sa che il pubblico è votato su quella notizia e io qualcosa ti devo dare, e nel dirti qualcosa allora inizio a gonfiarla, cioè la famosa frase che è diventata anche un meme sui social, salutava sempre, che sono quelle interviste inutili fatte per comunque mettere un tic, abbiamo sentito i vicini, i vicini non lo vedevano mai, non sapevano come si chiamava, ma la frase che si ripeteva era salutava sempre, e chi se ne frega che salutava sempre, e poi tutto questo fa sì che si arrivi diciamo a quasi far diventare ciò che è cruda realtà fiction, perché tu perdi dal punto di vista che quella è una vittima, che c'è una tragedia in corso in una famiglia, la decontestualizzi e tu sei in piena fiction, per cui il caso Denis Ptitone, ecco diciamone uno famoso, quasi perde la sua connotazione di cronaca e assume quella romanzesca. Non so quanto questo possa far bene al giardismo. Dinamiche assurde appunto, ma anche altri casi dove ci sono addirittura questi fenomeni di turismo morboso dove si vanno a visitare i luoghi in cui sono avvenuti dei delitti, poi rasentiamola la follia, guarda. Torniamo al romanzo, dai. Sì, no, ci sono delle pagine dove tu rappunti proprio un giornalismo bellissimo in questo libro, mi viene in mente ad esempio la pagina dedicata allo stampatore, quello per me che non sono giornalista è una pagina di grande fascino, ci sono degli episodi interessantissimi, però tornando al discorso di Christian Simon, giornalista, adesso mi stavo in mente che parlavi delle croniste donne, in questo romanzo, nel complotto dei calafati, c'è anche un episodio in cui il vice direttore Usai praticamente assegna a Clara un articolo, argomento, ritenendo che questo argomento sia più adatto a lei, che lei sia più capace degli altri, facendo intuire quel che è donna e si tratta di un'uscita di un profumo. Ecco, in questo senso volevo, mi è piaciuto moltissimo, non solo, adesso non svelo cosa succede, ma non solo la citazione di questo episodio, ma anche come hai fatto reagire Clara, che quello è stato bellissimo, e però volevo chiederti questo proposito, cioè quanto questi stereotipi di questi argomenti al femminile, te lo chiedo proprio da giornalista e da scrittore, ci sono ancora, tu che sei un uomo, un autore, che si mette dalla parte delle donne, quanto è ancora importante parlarne? Guarda, io sono zio di giovani professioniste e anche medico, e in particolar modo di un giovane medico, per un po' saranno due le mie nipoti medico, però Claudia, Claudia Piu, che è una che si è laureata a 23 anni, si è specializzata in un genio della medicina, e ovviamente essendo molto giovane d'età e anche non particolarmente alta di statura, però quando fa le guardie mediche oppure il reparto, mentre tutti sono dottori, lei è signorina, oppure mentre tutti sono dottori è, sì ma il dottore quando arriva? No, ma il dottore sono io, no, il dottore è uomo, quando arriva? Siamo nel 2022, e vedo in lei, siccome è come Clara, è una ragazza molto piena di spirito, Clara Simone in questo libro peraltro fa anche un cambio, molti lettori hanno notato che lei nel primo romanzo è una ragazza molto dura, ma quella è una delle reazioni che bisogna avere a volte per farsi rispettare, bisogna mettersi una corazza, però Rodolfo Saponito le dice guarda Clara, che secondo me però un'ottima arma che tu puoi utilizzare è quella che spiazza tutti, è quella dell'ironia, e lei gli chiede, ma perché tu la utilizzi? No, io sono carabiniere, si mettono a rire, e Clara inizia a capire che deve agire di ironia e quindi quando la colpiscono deve colpire con qualcosa che spiazzi l'avversario. E purtroppo, come ti dicevo, ancora oggi le nostre giovani professioniste devono fare i conti con questo tipo di atteggiamento. Poi però, ed è quella fatica in più, perché io lo vedo in loro che poi magari quello stesso paziente che il giorno prima ha chiesto, no ma mi faccia parlare sto dicendo una scassoneria, mi faccia parlare col medico, non con lei, poi diventa il paziente più affezionato il paziente che vuole essere invece curato soltanto da lei, quindi c'è sempre quella fatica per aggiungere la fiducia che mentre viene data a priori a un uomo che ha un camice bianco invece non funziona molto spesso, non sempre. Io come lungo, lunghissimo frequentatore di ospedali ho tutte dottoresse, le adoro e non compio, non ho mai compiuto l'errore di dire signorina oppure in Sardegna si dice anche belligedda che è proprio una cosa insopportabile, belligedda vuol dire bellina e lì invece hai una signora professionista che anche se ha 24 anni, anche se sembra una ragazzina devi rispettare. Clara racconta questo. A me piaceva raccontare questo perché poi i libri noi lo sappiamo, al di là del fatto che oggi io stia parlando, ma ieri intervistavo siamo lettori, questa è la cosa fondamentale. Noi da lettori sappiamo che un bel libro che ci capita nel momento giusto della nostra vita, che ci veicola un bel messaggio non ci fa sentire più soli. Vero. È bellissimo, è bellissimo Francesco. Infatti in questo libro c'è proprio questo, questo viene ancora fuori di più e volevo chiederti una cosa, questa è un'anticipazione se è possibile. Tu fai parlare, è più clara, anche con una generazione di giovani donne che insomma sono studentese che avremmo la possibilità di rivederle queste ragazze che si sono affacciate in questo secondo romanzo perché mi sono piaciute moltissimo. Allora sì, vedremo Vivi, che è una giovane studentessa che entra in scena rispetto a un fatto storico reale che ci racconta un'altra cosa. Io non ho voluto caricare di questi personaggi femminili per fare un femminismo posticcio, ma perché? Perché l'Unione Sarda mi riporta un articolo in cui mi racconta la grande opera teatrale messa insieme dagli studenti universitari cagliaritani i proventi vanno tutti in Calabria. Romanticismo di Gerola Morrovetta va in scena il 13 ottobre al Teatro Politeama Regina Margherita. L'Unione Sarda elenca i nomi degli attori e delle attrici poiché universitari sono tutte universitari. Gli attori sono tre, dodici sono ragazze. Che cosa ci dice questo? Che quell'università cagliaritana nel 1905 aveva già una nutrita rappresentanza femminile di studentesse, quindi molto presenti. Quindi Vivi è una di loro, Vivi tornerà. Ma c'è un altro fronte, noi stiamo sinora raccontando la classe agiata, la classe medio-borghese, alto-borghese. Di contralto invece c'è un'operaia, Maria Boi, detta Sarrana, la Rana, che rappresenta un altro gruppo importantissimo di donne cagliaritane, perché quando uno dice ma come ti immagini una donna sarda di inizio del Novecento? Ma me l'immagino a casa, vestita di nero, in attesa del marito. Invece quella Maria Boi è una caposquadra di una fabbrica, una manifattura a tabacchi, che in quel 1905 ha circa, guardate, nel 1902 sono 400, nel 1907 sono 700, facciamola via di mezzo, saranno 550, 550 giovani operarie di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che in una città di 52.000 abitanti fanno la spina dorsale del movimento operario. Erano tutte ragazze, erano 700 ragazze che nel 1906 guideranno e animeranno e saranno la spina dorsale del grande sciopero generale che il regno spegnerà nel sangue. Queste erano le ragazze che io ho incontrato nel 1900. Non invenzione ma, se vogliamo, cronaca, pura cronaca. Tra l'altro, io adesso, l'abbiamo detto perché magari si collega adesso, io mi trovo al museo di Sinai, perché poi fuori nel piazzale del museo si svolgerà una presentazione dal vivo tra circa dieci minuti. E devo dire che io vedo, sono tutte donne, c'è soltanto un ragazzo. Ma lo sappiamo la percentuale di lettori, diciamo in Italia, ma non lo limiterei solo all'Italia. Alla fine chi legge di più è proprio, è percentuale scontata, sono le donne. Sì, tra l'altro quello che c'è è un mio compagno di banco del liceo. Ma senti, una curiosità. Visto che tu parlavi appunto di tua madre, insomma hai scritto anche questo libro su tua madre, diciamo su tutte le donne presenti nella tua vita che sono state tante. Una cosa che mi ha stupita è il fatto, e non facciamo nessuno spoiler, sono le origini di Clara, nel senso che lei, sua madre, è morta vandola praticamente alla luce. Quindi ti chiedo, intanto sarà funzionale alla storia questo di non parlare di una figura che probabilmente sarebbe stata importante nella sua vita, diciamo di, chiamiamola mezzosangue in quel periodo, e che quindi avrebbe avuto in qualche modo un supporto, cioè non si sarebbe sentita così sola. Seconda cosa, un padre che in realtà non c'è, neanche lui, per motivi diversi se ce lo vuoi spiegare. Quindi mi chiedevo appunto, entrambi queste figure, questi genitori, era funzionale alla storia il fatto di non essere presenti con lei in questo periodo storico, in questa situazione? È funzionale alla storia di Clara, perché deve combattersela veramente da solo, anche se ha un nonno alle spalle che cerca di farle da scudo, ma lei va sempre oltre, per cui insomma il nonno può arrivare sino a un certo punto. Però era anche funzionale al periodo storico, nel senso che sempre leggendo le cronache dei giornali dell'epoca, non soltanto l'Unione Sarda, ma nello specifico per essere aderente alla realtà storica cagliaritana e sarda, purtroppo devo dirvi che gli articoli, i piccoli articoli che riportavano appunto alle morti di giovani donne che partorivano, magari appunto per la prima volta, purtroppo non era infrequente trovarlo. Quindi era raccontare intanto questo, attenzione, perché c'è un po' il mio messaggio che mi piace sempre riterare ed è quello di non considerare la parola medicina tradizionale come uno simolo, la medicina non è mai tradizionale, la medicina è sempre in evoluzione e ciò che è scontato oggi non era scontato allora. Quindi allora un parto era comunque sempre, come dire, un grande punto interrogativo per tutta una serie di questioni. Questo per quanto riguarda la mamma. Per quanto riguarda il padre era non dimenticare italiani brava gente, cioè noi siamo sempre stati italiani brava gente, ma abbiamo un passato coloniale importante e abbiamo un passato coloniale in combutta con altre potenze occidentali decisamente molto più potenti di noi. Però partecipiamo. Partecipiamo alla spedizione per la difesa delle legazioni nel 1900 in Cina, cioè per difendere gli interessi occidentali in Cina e domare la rivolta dei boxer. Dal nostro punto di vista era domare una rivolta, dal loro punto di vista era riappropriarsi di un qualcosa e quello che non si ricorda è che un nutrito contingente italiano e quindi anche di sardi partì per la Cina, nello specifico a Tienzin, la città che viene considerata il porto di Pechino che resterà protettorato italiano sino alla fine della seconda guerra mondiale. Allora mi piaceva veramente dare un contesto totale. Noi siamo in plena belle epoche e quei nostri bisnonni, quei nostri trisnonni stavano vivendo un momento ai loro occhi magico in cui il progresso della scienza, della tecnica, delle arti, della medicina era al massimo del suo fulgore, ma non sapevano, era nignano del fatto che quello sarebbe stato un focherello perché poi sarebbero arrivate le due grandissime guerre. Io ho la sala strapiena dall'altra parte. Ma guarda, ok, se vuoi finiamo anche adesso, proprio una manciata di minuti Linda, se vuoi chiedere. Vi volevo far vedere, ma ve li faccio vedere. Facceli vedere, dai, facciamo un saluto in diretta. Facciamo una carambata, allora andiamo fuori. Che bello, che belle le presentazioni finalmente dal vivo, posso dire? Vediamo un po' che succede, vediamo se vi fanno un applauso nel mentre che... Li vedete? Sì, ciao! Ciao a tutti, ciao! Bellissimo vedere così tanta gente, meraviglioso! Allora, siamo nel museo, questa è la parte, appunto, invece all'aperto. I lettori, in realtà, mi aspettavano un mese fa. Poi, state bene? Si sono tutti ammalati di Covid. Io rientro dentro, saluto e fra due minuti sono con tutti voi. Un saluto da Sydney. Ciao, ciao a tutti! Allora, questa diretta a Milano-Sinni... Bellissima, bellissima! Fantastico! Fantastico, direi... Un valore in più. Assolutamente, se vuoi Linda, fare l'ultima domanda e così ti lasciamo ai tuoi. Mi hai risposto con questa immagine perché volevo chiederti proprio come hanno accolto i cagliaritani i romanzi su Clara Simone, ma mi hai risposto facendoci vedere questa platea, anche perché erano tantissimi entusiasti. Sì, devo dirti che sono un profeta in patria e sono molto amato nella mia terra, molto, 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 ma ovunque. Ma perché è un rapporto reciproco di grande amore e io spero anche di riservare grande rispetto. Adesso però dobbiamo conquistare il mondo, perché Clara non può restare. Quindi, assolutamente, assolutamente. Noi intanto aspettiamo, visto che ci hai dato qualche anticipazione, quindi aspettiamo il prossimo romanzo su Clara Simone. Guarda, ci sono piaciuti entrambi tantissimo. Li facciamo anche rivedere, viste anche le splendide copertine che Einaudi ha realizzato. Sono di ricordo Patrinelli che tendo a ringraziare ogni volta perché le ha disegnate e sono magnifiche. Sono bellissime. Vero. Quindi, allora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie Francesco davvero della tua disponibilità. Grazie a tutti. Grazie di avermi promesso anche questo momento doppio. Ma scherzi, ma ci fa solo piacere. Grazie Linda per essere intervenuta. Quindi ti lasciamo alla tua presentazione. Viva le presentazioni dal vivo, anche se, ribadisco, per noi è sempre l'occasione di avere questi ponti da Milano, Bologna e Cagliari e riuscire comunque a incontrarci anche così e parlare sempre di libri che è la nostra passione. Grazie. Grazie Francesco. Allora, buona serata e buona presentazione. Grazie a voi. Buona serata a tutti e a tutte. Buona serata, grazie mille. Buona serata a tutti. Grazie, ciao.